Tanti eventi, cosplay e concerti, quello di Cristina D'Avena il 10 settembre. Con al centro ovviamente il fumetto in tutte le sue declinazioni, torna Pescara Comics & Games per una edizione, quella del 2022, che ha la location tra le principali novità, il Paladin Martin di Monte Silvano, dal 9 all'11 settembre. Sabato 10 ci sarà Cristina D'Avena, special guest, con la Bim Bum Bam Cartoon Band. Mentre il venerdì avremo, appunto, come possiamo vedere dai manifesti, gli Animaniacs Corp, con uno spettacolo tema Disney. Sono un coro di 10 voci, molto molto bello, quindi io vi consiglio di venire a vedere questo spettacolo. Domenica chiuderemo con una gara cosplay, il classico cosplay contest, gestito da Epicos. Negli anni abbiamo visto che il pubblico va veramente dai più piccoli ai più grandi, quindi è un evento adatto a tutti. Il Comune di Monte Silvano ha accolto subito la proposta degli organizzatori della rassegna del fumetto, che può avere anche interessanti ricadute turistiche. Questa manifestazione di carattere nazionale farà sì che la stagione venga ancora allungata, una stagione che ricordiamo che è stata anche positiva, quindi diciamo che anche la famiglia che è in vacanza e portare il proprio bambino all'assistere a una stazione così importante, con eventi all'interno di vario genere, è importante per il bambino, per noi rafforza la nostra mission, quella del turismo per famiglie. Sono certo che spostare per l'organizzatore questo evento a Monte Silvano è stata anche per loro una sfida, ma da quello che loro mi dicono hanno avuto un grosso risultato anche di presenze per espositore e quant'altro, tant'è che sono previste manifestazioni importanti all'interno. Siamo sicuri che sarà un grandissimo evento, come è sempre stato, cercheremo di portarlo ancora più in alto e faremo in modo che possa essere identificabile con la città anche negli anni a seguire.